Nella capitale si contano ogni giorno, nelle vite di centinaia di famiglie, i danni della mala gestione dei piani di edilizia economica popolare, inquilini truffati dai costruttori, opere non realizzate e servizi complementari inadeguati. Che cosa non ha funzionato finora con i piani di zona di Roma? Nel 2012 ho fatto la prima denuncia, denuncia che ha fatto scattare il meccanismo della magistratura, che ha sequestrato 326 alloggi e ha avviato l'inchiesta e da lì abbiamo scoperto un vaso di Pandora. Quasi tutti i piani di zona costruiti a Roma, che sono circa 200.000 case, avevano un problema grosso che è quello di mancato rispetto della funzione per cui erano nati e soprattutto mancato rispetto delle leggi. I PEP, introdotti per la prima volta nel 1962 e con la legge 167, sono nati come uno strumento urbanistico per reperire e acquisire le aree da destinare alla costruzione di alloggi popolari, opere e servizi complementari, come le fognature, la rete stradale, ma anche scuole, centri sportivi, parcheggi e parchi pubblici. Il fine ultimo è fornire case a prezzi calmierati, sia in proprietà che in locazione, a cittadini che altrimenti non potrebbero permettersele. Un obiettivo quindi lodevole che però nella capitale spesso non è stato conseguito e non solo, invece che migliorare la vita dei beneficiari, ha contribuito a rovinargliela. Ditte e cooperative avevano costruito sul terreno pubblico, con finanziamento regionale, anche addirittura in alcuni casi del 90% a fondo perduto, e non rispettavano le finalità per cui affittavano gli alloggi a prezzi di mercato, nonostante invece la legge li obbligava a un prezzo massimo di gestione, e quindi dal 2012 si è avvirato almeno 25 inchieste in altrettanti piani di zona. Per cui la maggior parte di queste ditte e queste cooperative hanno dato il fallimento. Nei diversi municipi di Roma quali sono le situazioni più critiche? La situazione più critica è rimasta Monte Stallonara e Ponte Caleria soprattutto. Stiamo risolvendo le prime revoche, che parliamo di Castelverde, di Monte Stallonara, prima fase, Tolvergata, della Borghesiana, la Storta. Ci sono tantissime situazioni e queste le prime revoche adesso stanno andando avanti con la riacquisizione da parte del Comune, come prevede la legge del patrimonio. I grossi interessi economici dietro alla realizzazione delle opere di urbanistica non solo hanno attirato l'attenzione di imprenditori disonesti, ma in alcuni casi si è ipotizzata l'ombra di una longa manus della criminalità organizzata. Divene allora ancora più importante un controllo adeguato da parte delle istituzioni.